Buongiorno, come noto è in corso la procedura di emersione del lavoro irregolare che è stata prevista e regolata dai recenti provvedimenti governativi in materia di emergenza sanitaria. Al momento in cui parlo è vigente il decreto legge 52 2020. Allo stato attuale, dico subito, la scadenza prevista per questa sanatoria è il 15 agosto 2020. Vale però, forse la pena, di risintetizzare un attimo di che cosa stiamo parlando. Primo, questa procedura particolare di emersione riguarda tre settori produttivi, tre settori di lavoro e basta allo stato attuale. Cioè l'agricoltura, e quando dico agricoltura dico anche i settori legati all'agricoltura, alla pesca, l'allevamento degli animali, riguarda l'assistenza alle famiglie, i cosiddetti collaboratori domestici, e riguarda gli assistenti alle persone non autosufficienti. Quindi, stiamo parlando dei cosiddetti badanti o badanti. Vale subito la pena, è stato chiarito, vale la pena di sottolineare, che quando parliamo di queste attività, sono assolutamente escluse tutte le attività di assistenza alla famiglia legate alle unità al lavoro dei pubblici esercizi, per cui sono escluse i bed and breakfast, le pensioni, gli affittacamere, tutti questi settori sono esclusi. Quali sono le procedure di emersione di cui stiamo parlando? Perché si è parlato di emersione del lavoro vero, ma in effetti la legge ha introdotto tre tipi diversi di procedure che hanno ciascuno un proprio percorso. Prima procedura, il datore di lavoro può chiedere di assumere un lavoratore irregolare in uno dei tre settori di cui abbiamo parlato prima, cioè agricoltura, lavoro colfe e badanti, per dirla in maniera semplice, a condizione che il lavoratore fosse in Italia e fossia tuttora in Italia al momento della domanda di emersione, all'8 marzo 2020. Seconda procedura, emersione di un lavoro, di un rapporto di lavoro subordinato, in corso con un lavoratore non regolare, alla data dell'8 marzo, cioè un rapporto di lavoro già in corso. Terzo procedura, la richiesta da parte di un lavoratore il cui permesso di sorgono sia già scaduto al 31 ottobre dell'anno scorso e che abbia prima del 31 ottobre dell'anno scorso lavorato, in qualche modo, in uno dei settori interessati che abbiamo detto prima. A questo punto, queste sono le procedure, ho già letto la nuova scadenza, ci sono una serie di domande che i lavoratori interessati, i datori dei lavori interessati pongono e che sono domande abbastanza ricorrenti. Prima domanda, se io, lavoratore, chiedo il permesso di soggiorno provvisorio di sei mesi per cercare un nuovo lavoro, devo trovare un nuovo lavoro in agricoltura, lavoro domestico, badanti? La risposta è no, nel modo più fermo. Il problema è che uno deve avere lavorato in uno di questi settori, ma una volta che ha il permesso di soggiorno può trovare un nuovo posto di lavoro in qualsiasi attività o settore produttivo. Secondo, bisogna provare la presenza in Italia all'8 di marzo e questo è un problema, perché la prova non può essere data con testimoni, con dichiarazioni testimoniali, ma con documenti di data certa anteriore all'8 marzo. E quindi bisogna andare a trovare una serie di documenti in cui esista la data e il nome. Faccio alcuni esempi, alcuni circolano. ad esempio biglietti ferroviari, biglietti aerei, abbonamenti evidentemente di tipo ferroviario, le multe che uno possa aver preso, tutte le certificazioni che possono provenire da un pronto soccorso, da un ospedale, le scuole, l'iscrizione a un corso scolastico, l'iscrizione all'asilo unido per i bambini, la stipula di un contratto telefonico, la stipula di un contratto bancario o eventualmente anche l'acquisto di una post pay o qualcosa, in cui l'importante è che siano documenti scritti, che abbiano una data e abbiano il nome sopra. Ovviamente anche le dichiarazioni rilasciate dai centri di accoglienza. Terzo problema fondamentale, i limiti di rendito su cui ci si pone il problema del datore di lavoro. Chi fa domanda deve dimostrare di avere una capacità economica per poter assumere persone. Allora, il problema è nel settore, e qui la legge ha fatto oggettivamente un po' di confusione. Primo, il datore di lavoro del settore agricolo deve avere un reddito o un fatturato, se è un'impresa, di almeno 30.000 euro l'anno scorso nella dichiarazione del reddito di re-deriva lo scorso anno 2019. Per quanto riguarda invece l'assistenza alla famiglia, badanti o colf, se il soggetto che fa la domanda è solo 20.000 euro, ma potrebbe anche essere assommati tutti i redditi dei familiari e dello stato di famiglia, purché si raggiunga in questo caso i 27.000 euro, tutti coloro che convivono stanno nello stato di famiglia. E non solo, si possono anche aggiungere i redditi di figli, genitori o coniugi, anche se non conviventi. Terzo elemento che non è stato capito. Nel caso in cui una domanda venga fatta da un datore di lavoro per un'assistenza alla persona, assumere un badante, non occorre dimostrare problemi di reddito. Occorre però che questa persona abbia una certificazione medica di riconoscimento della propria condizione di invalidità. E questa, ovviamente, deve essere una certificazione anteriore all'8 di marzo. Ultimo problema. Il problema dei soldi. Noi sappiamo che bisogna pagare per ciascuna regolarizzazione 500 euro. Qualcuno si è detto, ma dato che la scadenza è il 15 agosto, pago entro il 15 agosto. No! I 500 euro vanno pagati contestualmente alla domanda. Se allora la domanda è irricedibile. Ma, e poi però, uno dice, e c'è altro da pagare. Se uno, oltre al datore di lavoro, oltre alla domanda di assunzione, invece fa la domanda diversa di regolarizzazione di un rapporto di lavoro precedente non regolarizzato, a questo punto occorrerà pagare un onere di regolarizzazione di cui non sappiamo ancora l'entità, perché ancora non è usciti i provvedimenti ministeriali di sistemazione di questa quantificazione di quest'onere. Mi permetto tuttavia di segnalare che la regolarizzazione di un rapporto già in corso eviterebbe eventuali futuri controlli da parte dell'ispettorato del lavoro o da parte dell'Inps, mentre invece l'assunzione di un nuovo, fare figurare l'assunzione nuova, ancorché ci fosse stato invece precedente un rapporto di lavori non regolare, non escluderebbe da parte dell'Inps o da parte dell'ispettorato del lavoro la possibilità di controlli sul pregresso. Quindi in qualche modo pagando l'onere di regolarizzazione il datore di lavoro a questo punto sistema la propria posizione. Basta, per ora ritorneremo quanto prima perché è un argomento sul quale domande ritornano e le procedure sono oggettivamente non semplici. Grazie a tutti, buona giornata. Grazie. Grazie a tutti.